Un saluto a tutti. Ci ritroviamo dopo aver lasciato Paolo e i suoi intrecci di mondi, il mondo ebraico, il mondo romano, il mondo greco che gli appartengono perché il mondo nel quale è cresciuto, l'aria che ha respirato, quello che ha intessuto le fibre della sua persona, un po' come tutti noi, come ogni evangelizzatore è legato al mondo nel quale vive, cresce, alla cultura che respira. Per ricordarci sempre di questa caratteristica della sua persona ma anche del suo stile comunicativo, basta ricordarci del lavoro con cui Paolo si manteneva, che era quello del fabbricante di tende. Le tende venivano fabbricate intrecciando fili, intrecciando peli di capri ad esempio o lavorando le pelli. Ovviamente stiamo parlando di tende non da finestre ma di tende da alloggio, soprattutto ad esempio venivano utilizzate dai militari e quindi ne vendevano, ne servivano tantissime. Dunque questo era un lavoro che lui faceva e che ricorda spesso che gli era utile per mantenersi e che allo stesso tempo gli aveva garantito una certa autonomia economica, ma allo stesso tempo quella straordinaria possibilità di incontrare persone con cui si lavora. Questa condivisione del lavoro emblematico è il caso dei coniugi Aquila e Priscilla, che anche loro sono tessitori e fabbricanti di tende, danno l'occasione appunto a Paolo di condividere la propria storia, la propria esperienza e di crescere anche grazie all'apporto di questi fratelli cristiani. Bene, in questo intreccio abbiamo detto la cosa che ci interessa adesso focalizzare rispetto alle notizie su Paolo è quella delle fonti. Da dove ci arrivano tutte le notizie su Paolo, sulla sua vita e sul suo pensiero? Potremmo dire che ci sono circa tre fonti principali. La prima, importantissima anche da un punto di vista cronologico, sono le sette lettere che da tutti gli studiosi, nonostante il vaglio durissimo della ricerca storico-critica, soprattutto degli ultimi due secoli, sono ritenute unanimemente paoline, cioè scritte proprio da lui. E nell'ordine di tempo ricordiamo la prima lettera ai Tessalonicesi, poi ricordiamo la prima e seconda lettera ai Corinzi, la lettera ai Galati, la lettera ai Romani, la lettera ai Filippesi e il biglietto più che lettera a Filemone, questo breve messaggio che scrive a proposito dello schiavo Onesimo. Ecco, queste sette epistole o lettere, adesso non si distingue più tanto, anche il termine viene usato in modo pressoché sinonimo, ci dicono un po' anche evoluzione della sua esperienza, perché sono state scritte nell'arco ovviamente di alcuni anni, ma anche una parzialità, perché chiaramente sono, come abbiamo detto già fin dalla prima incontro, non sono discorsi generali, astratti, sistematici, si tratta di aiutare a crescere le comunità a cui Paolo si rivolge. La prima lettera ai Tessalonicesi, quindi ai cristiani di Tessalonica, è stata scritta probabilmente da Corinto intorno al 50. La svolta di Paolo è avvenuta più o meno nel 35, quindi già sono passati molti anni. Ovviamente quando Paolo scrive ai Tessalonicesi, ai Corinzi o ai Galati, non dobbiamo pensare a tutti, ma a quelli che vivendo a Tessalonica o a Corinto o a Roma o a Filippi, si fossero diventati cristiani. Quindi parliamo di piccole comunità spesso, non più di 20 o 30 persone, tant'è vero che spessissimo si riunivano a casa di qualcuno di loro e comunità che a volte poi si moltiplicavano, cioè ce ne erano più di una nella stessa città, ma che erano comunque di questa entità. Quindi erano i fratelli, le sorelle cristiani presenti in quella città. Ecco gli interlocutori delle lettere. Dopo la prima lettera ai Tessalonicesi abbiamo detto ci sono le lettere ai Corinzi e la lettera ai Galati. Ecco di queste, qui ovviamente parliamo per ipotesi perché questi dettagli sono ricostruiti grazie a degli indizi, ma non abbiamo prove certe del dove e del quando. Bene, queste altre lettere sono piuttosto datate invece nel periodo del suo terzo viaggio. Probabilmente la prima ai Corinzi e la lettera ai Galati da Efeso intorno al 55, la seconda ai Corinzi forse dalla Macedonia un paio d'anni dopo e poi nel tempo successivo la lettera ai Romani, forse da Corinto nel 58, di nuovo parliamo sempre di un'ipotesi verso la fine di quello che era il terzo viaggio, e invece la lettera ai Filippesi, la lettera a Filemone, visto che si parla di una prigionia, si è ipotizzato che fossero state scritte a Cesarea, in questo caso intorno al 59, o a Roma, a Roma dove Paolo arriva di fatto prigioniero, quindi intorno al 61-62. Quindi nell'arco di circa una dozzina d'anni abbiamo le sette lettere autentiche di Paolo, ribadisco, autentiche vuol dire che si riconosce in esse uno stile, un linguaggio, un vocabolario, delle tematiche portanti del Paolo storico. A questa prima fonte, quindi fondamentale, aggiungiamo le altre sei lettere del Epistolario, che vengono chiamate Deutero Paoline, Secondo Paoline, come se ci fosse un secondo Paolo, che quindi non è il Paolo storico, ma potrebbe essere un discepolo, o come anche la Dei Verbum si esprime a proposito dei Vangeli, degli uomini della sua cerchia che in qualche modo hanno prolungato, hanno attualizzato il suo messaggio. Bene, fra queste però c'è qualche differenza, Ad esempio abbiamo la seconda lettera ai Tessaronicesi, abbiamo poi la lettera ai Colossesi e agli Efesini, e su un altro lato metterei la lettera a Tito e la prima e seconda a Timoteo, che come sentiamo già dai titoli, sono lettere più che comunità a singole persone. Tito e le due a Timoteo sono indirizzate a quelli che sono i Vescovi, cioè i pastori Timoteo e Tito, rispettivamente di Efeso, della comunità cristiana di Efeso e di Creta. Allora, proprio per questo, queste ultime tre vengono chiamate lettere pastorali. Di fatto in queste non troviamo tanto una riflessione sulla diffusione del Vangelo, su problematiche particolari rispetto alle quali Paolo provava a dare una risposta, ma piuttosto si affrontano tematiche di organizzazione della comunità, e infatti qui si parla anche di una strutturazione di quella gerarchia che poi ovviamente si svilupperà molto di più nei decenni e nei secoli successivi. Questo, oltre ad altri dettagli più di carattere letterario, fanno sì che queste tre lettere vengono messe un po' anche come datazione associata a quella che è un po' la terza generazione cristiana. Quindi parliamo, se Paolo muore intorno al 67, piuttosto queste lettere vanno verso l'80, il 90, il 100 addirittura, quindi verso la fine del primo secolo. Un discorso leggermente diverso invece per Colossesi ed Efesini. Queste due, io le chiamo un po' delle lettere che stanno un po' sulla soglia, fra Paolo e il dopo Paolo, sono le uniche due che hanno un legame strettissimo l'una con l'altra, nel senso che Efesini è una rielaborazione, un approfondimento ecclesiologico di quello che troviamo in Colossesi, che invece è più centrata proprio sulla figura di Cristo, e che soprattutto Colossesi sembra essere scritta quasi a quattro mani, firmata, porta la firma di Paolo, mentre viene dichiarato apertamente che tutto il resto è stato scritto da un altro. Allora in questo caso potremmo dire che forse c'era un Paolo ancora vivente, ancora che interloquiva in qualche modo con quello che concretamente, materialmente ha scritto la lettera e che ha dato un suo apporto molto forte, riconoscibile da uno stile che non è quello delle altre sette precedenti. Quindi potrebbe essere stata scritta poco prima o poco dopo la morte di Paolo, anche a seguito di contatti stretti con lui, ma certamente con un intervento di qualcun altro, che poi qualche anno dopo è stato ulteriormente ripreso e sviluppato nella lettera agli Efesini. Quindi ecco, già nel tempo vediamo le 13 lettere dell'Epistolario Paolino, che hanno una differenza, ovviamente sono tutte dalla Chiesa riconosciute come canoniche, come ispirate, come contenenti la parola di Dio, quindi autorevoli, pienamente autorevoli, ma allo stesso tempo dobbiamo sapere, conoscere questa differenza nel momento in cui si va a fare quel lavoro teologico, cioè si vanno a prendere, a studiare, a valutare il peso, dicevamo l'autorità delle singole affermazioni, perché se vogliamo dire qual è il pensiero paolino, chiaramente dovremo concentrarci su alcuni testi e un pochino meno su altri, oppure tenere conto che certi testi sono stati precisati, sono stati scritti per rispondere a esigenze diverse rispetto a quelle alle quali rispondeva Paolo. Grazie per la visione!